Amici, una nuova puntata di Musica Maestro, siamo nel cuore di questa festa, naturalmente a Chiusapesio, abbiamo del liscio, abbiamo cose un po' meno lisce, ma soprattutto dei luoghi stupendi che invitiamo tutti gli amici a visitare, da dei musei a delle situazioni veramente particolari, non per ultimo un parco veramente che merita l'attenzione e delle altre aree molto interessanti. Dunque, Musica Maestro prevede naturalmente tanta musica, abbiamo questi su una dura della Curin, facciamo un applauso per cortesia, ecco Mauro, presidente di questa Progo, un bel applauso, vieni qua, venghi qua, di più, strappatevi i capelli, ecco così lei che, brava quella signora, Allora, tanto ringrazio Lorena che ci ha accompagnati un po' dappertutto, tutti i ragazzi che hanno collaborato col bollito, ci hanno fatto un bollito così, benissimo, buonissimo con la testina, allora Mauro, tanti sacrifici, però guarda che soddisfazione. Ah sì, di sicuro, qui è solo la partenza, l'inizio, questa è la prima serata, salutiamo tutti gli amici che ci seguono da casa, così che si fa, no? Allora, diciamo a tutti venite a Chiusapesio, perché merita veramente venire a Chiusapesio in questi quattro giorni di festa che incomincia questa sera, domani sera di nuovo l'inaugurazione della fiera ufficiale, abbiamo l'elezione di Miss Chiusapesio, poi sabato sera di nuovo cena qui con la polentata ormai famosa e tradizionale, poi i fuochi d'artificio quest'anno musicali, interessanti, tutti da vedere. E poi domenica la grande kermesse della fiera con tutto il paese chiuso, arte, artigianato chiusano, chi più ne ha più ne metta, naturalmente mangiando con gusto qui a Chiusapesio in questa area, nell'area che sarà poi trasformata in area zootecnica. Però mi premeva, se permetti Daniele, intanto di ringraziarvi che siete venuti a Chiusapesio a trovarci, per noi è un onore avervi qui, vorrei ringraziare tutti i presenti che questa sera hanno voluto venire a... insomma un applauso adesso ci sta, perché è vero? E poi naturalmente ringraziare i volontari della Proloquo e non soltanto di tutte le associazioni che hanno lavorato per preparare tutto questo. E speriamo naturalmente nel tempo che sia clemente, che ci aiuti così che possiamo finire in bellezza questa quattordicesima edizione di Chiusa Duarta, ossia Chiusa Aperta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.